Ma tu a livello po' generazionale come ti senti rispetto alla questione pensione? Allora sicuramente io mi sento parte di un meccanismo che aveva necessità di essere aggiornato già anni fa e cosa che non è stata fatta poi nell'effettivo. Quindi io mi sento bloccato nel versare dei contributi per una pensione che io temo anche di non vedere mai in realtà. Quindi mi sento sfruttato per la mia forza lavoro anche se poi nell'effettivo quella forza lavoro che io sto impiegando adesso non verrà magari ripagata poi in futuro. Io non vedo l'ora di andare in pensione perché vorrei godermi la libertà però secondo me noi siamo una generazione che questa libertà non la vedrà mai perché in pensione non ci andremo veramente mai secondo me. Giovani come me credo che è una prospettiva molto lontana, molto incerta quindi è un problema abbastanza grande, non c'è prospettiva di futuro perché noi stiamo lavorando tanto ma alla fine non sapremo neanche se un giorno potremo smettere di lavorare e quindi la risposta è che non lo so e che mi dispiace non saperlo. Ho appena firmato un contratto di lavoro, mia madre ha esultato dicendomi che ah che bello ti pagano i contributi, comunque sei giovane, hai già la pensione pagata eccetera e io ho detto ma io non so neanche se ci arriverò alle pensioni sinceramente perché non so se ci arriverò viva, punto primo, punto secondo anche se ci dovesse arrivare che età avrò? In Francia e in altri paesi quando è stata l'età pensionabile sono successe grandi rivolte secondo te è qualcosa che dovrebbe succedere anche qui in Italia? Forse sì però non è una cosa molto nello spirito italiano, cioè i francesi storicamente sono molto portati a fare questo tipo di manifestazioni, io non ho mai visto gli italiani così presi per cause in particolare tranne magari appunto quelle del clima, noi ragazzi, però non siamo molto un popolo manifestante ecco. Secondo me allora le generazioni dovrebbero partecipare molto di più alla vita politica ovviamente e se guardo all'estero ad esempio anche in Francia comunque non accettano diciamo questa situazione qua, anche per le piccole cose, mentre noi non sappiamo se tra 50 anni dovremmo ancora lavorare per pagarci una pensione, se ci sarà mai una pensione e questo secondo me è inaccettabile. Tu personalmente quando pensi a quando andrò in pensione come ti senti? Guarda non è che mi sento benissimo, cioè già sopravvivere a Milano è difficile, immaginare una pensione ancora di più e questo se devo dirti mi dà rabbia. I miei obiettivi non sono quelli di rimanere in Italia, sono quelli di andare all'estero e questo è il problema delle pensioni, è una delle motivazioni che mi porta a pensare questo. E' un tema che comunque in casa, in famiglia, sento parecchio perché c'è un po' l'ansia da parte dei miei genitori anche in merito a quando io andrò in pensione perché se mia madre pensa se tutto va bene di andare in pensione a 70 anni mi sono preoccupati di quando io andrò e come soprattutto.